A chi ha seguito la live che ho fatto domenica con nessuno, soprattutto i ragazzi del gruppo Telegram dei Profeti di One Piece, del gruppo Facebook dei Profeti di One Piece, mi hanno detto che loro non guarderanno più le mie live e più i miei video perché ritengono che io spoileri One Piece. Faccio una premessa, è vero che nel corso del tempo ho predetto con largo anticipo tantissimi eventi che si sono verificati ad anni di distanza da quando li ho predetti. Io chiamo queste mie brillanti intuizioni quasi profetiche profezie e quando le elaboro e quando le divulgo alla community italiana di One Piece le etichetto sempre come profezie. Anzi, quando sono in live lo annuncio sempre, attenzione, sto per fare una profezia. Quando faccio un video specifico è chiamato a profezia. Quindi do la possibilità alle persone che hanno capito, hanno visto che tendo a essere molto performante nella previsione degli eventi di One Piece di non ascoltare perché seppur non è una certezza nel manga, se io dico una cosa, quella si è vera quasi sempre, è simile a uno spoiler, ne rendo perfettamente conto. Però ci sono alcune volte dove io non elaboro una profezia, non racconto di essere certo di una cosa al 100%, creo un ventaglio di ipotesi ed è ovvio che quando si fa un ventaglio di ipotesi c'è una maggior possibilità di prendere quell'ipotesi. La profezia è molto dritta, secca, boom, va lì. La teoria invece è un ragionamento esposto a voce alta, in pubblico, diciamo davanti a più persone e l'esito di quel ragionamento può portare a più alternative. Che mi capita, essendo un commentatore di One Piece, di dire magari in certe occasioni, in certi frangenti, quali possono essere le opzioni riguardo un evento incerto. Cioè non ne do una, e io dico che quella è una teoria. Mi è capitato il live la scorsa settimana di fare questo ragionamento e di quindi dare alcune opzioni, gettando anche una monetina su quella che ritenevo più probabile, ma ripeto, non era una profezia, era solo una teoria, dove ho scoperto di aver indovinato, almeno così sembrerebbe dagli spoiler che mi dicono essere usciti, no? Tutti mi hanno iniziato a scrivere su Instagram. E pare che io abbia preso il nome dei due imperatori. Ho cercato di giustificarmi con i ragazzi del gruppo, dicendo, scusate ragazzi, però io non è che ho anticipato questo evento. Ho detto che, a mio parere, essendo caduti due imperatori, si doveva sostituire con altri due imperatori, e ho provato a dire che oltre Rufi, secondo me, l'altro imperatore l'avremmo dovuto cercare tra gli ex Shichibukai. E non ho fatto mica un nome, ho detto, secondo me, Weeble era candidabile, perché voleva riconquistare un po' il potere e i territori del padre. Mi hoc no, perché non mi sembra un personaggio che abbia mai avuto l'ambizione di governare e trovare One Piece, stava a cazzeggiare, a cucinare, a spadellare sull'isola delle scimmie. Io penso che si sia nascosto dietro la gonna di Shanks, questo lo dico ormai da anni, ecco, questa forse è più una profezia, visto che l'ho ripetuta e la do come opzione certa, però ancora non si è verificata, quindi vedremo. Ho detto, potrebbe essere Bo Hancock, perché comunque lei è la regina di un regno, non ha tanta influenza su altri regni, però è una possibilità, anche perché ci sarebbe bene che nei quattro imperatori ci sia ancora una donna, e poi avevo fatto il nome di Bug il Clown, facendo un ragionamento. Cioè, anche in questi casi, quando si fanno le teorie, secondo me, non è importante prendere esattamente il nome giusto, dire esattamente l'evento giusto, corretto che è avvenuto. È importante, secondo me, ascoltare e partecipare tutti quanti insieme a un ragionamento, perché quello che ci piace è un'analisi di One Piece attraverso il ragionamento, e un'altra cosa importante è che quando poi andiamo a vedere l'esito di quell'imprevedibilità, quali saranno e quanti saranno i futuri imperatori, quando andiamo a vedere nell'esito, poteva essere pure, faccio un esempio, uno dei nuovi imperatori poteva essere anche Bo Hancock, anche se io, per esempio, dicevo Buggy, oppure che poteva essere addirittura per ospero, ok? Perché dicono, ma magari è caduta Big Mom, ma il regno dell'imperatore, l'influenza del nucleo, della ciurma di quell'imperatore, non è venuto meno, potrebbe essere stata sostituita, se è morta o in questo momento debilitata, o che ha rinunciato perché è sconfitta. E dissi, ovviamente, se io però, ho detto, se io dovesse tirare la mia monetina su tutto questo ventaglio di opzioni, direi che potrebbe essere uno Rufy, perché clamorosamente ha battuto un imperatore, la CPZ l'ha provato, no? Sì, lo potevano nascondere mai, Gorosei ha detto che quando cade un imperatore è difficile nascondere quello che succede, uno poteva essere Rufy, e che se avessi lanciato questa monetina, uno era Rufy, l'altro abbaghi il clown. E dicevo, bug il clown perché è un ex flottaro che abbiamo capito essere un po', avere un potere commerciale perché lui sembrava essere proprio un pirata dedico al commercio e siccome sappiamo che una caratteristica che devono avere gli imperatori è quella di avere un'influenza nel mondo, un determinato potere, che potrebbe essere mediatico, militare, di forza bruta, di influenza sui paesi, potrebbe anche essere un'influenza commerciale, perché le influenze commerciali crea rapporti di dipendenza, sudditanza, relazioni, no? E quindi ho detto, ah, se devo tirare la mia monetina è buggy, eccetera. Però, purtroppo, questa espressione, cioè tirare la monetina di tutte le opzioni che avevo detto, tirare la monetina su Rufy e buggy, a me ha fatto sembrare come se io stessi dicendo, è questo quello che succede nel prossimo capitolo, gli imperatori saranno quattro e gli altri due saranno Rufy e buggy. No, perché ho dato una serie di opzioni. Ora, non sappiamo, o almeno non svegliamo, se questa cosa si è verificata oppure no, stando agli spoiler del prossimo capitolo. Ma, se l'ho presa, io apprezzerei più il ragionamento che ho fatto di lui. Io ho preso il ragionamento, non tanto l'uomo. Anche se poi ho preso l'uomo, quello è veramente un lancio di moneta, è un azzardo. Invece, riterrei molto più del stando, anche se fosse Bo Hancock, o Weeble, il prossimo imperatore, potrei non aver preso il mio lancio della monetina sulle opzioni che avevo fatto. Seguitemi, è un po' difficile per me spiegarmi in questo. Ma il ragionamento che c'è dietro è assolutamente apprezzabile. È assolutamente valido. Cioè, non è che il mio ragionamento diventa da fesso, sciocco perché non ho azzeccato al 100% l'esito di quel ragionamento, perché è ovvio che ci siano più opzioni. Poi uno può prenderci o meno a fortuna e sfortuna. Ma lo stesso ragionamento varrebbe se qualcuno, diciamo, nell'analisi del capitolo 1052, avesse detto, ad esempio, i prossimi due imperatori saranno Bo Hancock e Rufy. E ci prendono. Magari scopriamo dagli spoiler che chi ha fatto questa analisi ci ha preso. Ma che valore ha aver preso questi nomi senza averlo fatto con un ragionamento corretto, senza aver discusso con la community in maniera corretta, perché il discutere con la community in maniera corretta permette di ragionare meglio su One Piece e quando ragioni meglio su un'opera letteraria, come ti sia che sia, si presume che tu poi ragionerai bene anche in altri aspetti della vita, se ti abitui a ragionare bene. Quindi ha anche un valore sociale, oltre alla semplice lettura del fumetto. Allora mettiamo a punto che magari i prossimi due imperatori saranno Rufy e Bo Hancock e che questi nostri amici, questi commentatori di YouTube hanno detto Bo Hancock e dicono e dicono Ah, cavolo, saranno Bo Hancock e Rufy perché rientrano nel pattern di questi animali. Qualche riferimento a Ronin, tipo, lo facciamo, no? Bene. Ok, mi hai dato un'informazione interessante, hai notato questo pattern, però il tuo ragionamento è sbagliato perché i pattern quando si dovevano modificare le istituzioni di gruppi in One Piece non sono stati quasi mai rispettati, sono stati un po' ricreati a ritroso in reverse engineering. Voglio dirla ancora in un altro modo, se qualcuno avesse detto i prossimi imperatori saranno non quattro ma cinque saranno Rufy, Lo e Kid perché hanno battuto due imperatori, perché le notizie di come hanno battuto sono uscite fuori da Uano e alla fine è vero che Rufy ha battuto Kaido in singolo ma precedentemente c'erano stati tanti aiuti come in due hanno battuto Big Mom senza nemmeno tanti aiuti questi due e quindi devono per forza far i cinque imperatori creando nuovi equilibri, sconfinevano. Ok, magari non ci prendono, magari sbagliano, magari non saranno tutte e tre nuovi imperatori, non ci saranno cinque imperatori, ma il ragionamento era bello e corretto, era anche logico, è stato costruito, poi si può sbagliare l'esito, si può sbagliare, aspetta, nessuno ci uccide, però ecco, voi vi concentrate, mi accusate di spoilerarvi il manga quando in realtà non è tanto importante se c'è azzecco o non c'è azzecco e molto spesso, vabbè, c'è azzecco, è vero, lo ammetto. E allora forse mi rimane un'unica alternativa per, ho due alternative, mi rimangono due alternative, una è non trattare più One Piece, è una cosa che mi dispiacerebbe, lo faccio soltanto nei gruppi Facebook e Telegram con i ragazzi che sono, se sono iscritti e perché mi apprezzano, poi c'è qualcuno che mi iscrive su Instagram, oppure l'alternativa è che non provo mai più a fare una previsione sul futuro, sull'evolversi la storia di One Piece per evitare che qualcuno rimanga scocciato, però posso parlare di quello che è avvenuto analizzandolo dal mio punto di vista, come quando c'è Sandro e Zordi, quello più scarso, quello più forte, quello che è andata così, cosa? Fatemi sapere voi se, che opzione preferite, perché ecco, mi è dispiaciuto che ci sia stata questa lamentela che, e voglio riproverare anche, dice profeta, profeta, hai preso un'altra profezia, non è una profezia, se iniziamo a dire che le becco tutte non mi ascolta più nessuno. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie a tutti.